Se noi guardiamo tutti i paesi vicini a noi, quelli che ci avevano seguito nell'impennata dei contagi drammatica di febbraio-marzo, adesso ci hanno anticipato e hanno dei numeri molto elevati. E d'altronde nel momento in cui la vita riprende, le occasioni di incontro sono sempre più frequenti, incontro sociale, incontro formativo, incontro economico, è evidente che le possibilità di contagio crescono. Non bisogna rinunciare alla presenza, non bisogna rinunciare alla vita quotidiana, bisogna avere una grande consapevolezza. Io credo che sia il momento di non essere spaventati, ma essere assolutamente determinati in ogni momento ad operare con la nostra vita quotidiana per ridurre la possibilità di contagio. Mettiamoci la mascherina. Se noi saremo attenti, tutti, è un appello che ho fatto anche agli studenti, siate motori di questa consapevolezza che oggi dimostrate in aula. Ecco, se lo faremo tutti, saremo in grado di contenere il contagio. Se questo non succederà, è chiaro che con la stagione fredda, con la presenza nei luoghi, il contagio rischia di salire a un valore che poi ci dovrà portare a delle scelte di chiusura che assolutamente non vogliamo.